Sul web generalmente le immagini sono piccole e a bassa risoluzione, non permettono quindi di apprezzare a pieno le qualità creative, espressive e tecniche delle foto. In molte occasioni, ad esempio nella vendita di prodotti di lusso, può essere vantaggioso però avere immagini ad alta risoluzione per ingrandire i dettagli e permettere a un potenziale acquirente di valutare ogni sfumatura. Può tornare quindi molto utile Zoomify, uno dei formati proposti da Photoshop per il salvataggio delle immagini. Questo formato consente al fotografo di pubblicare online file molto pesanti e all'utente di internet di fruire delle foto anche con connessioni più lente. Il file in questo caso viene creato in forma piramidale. Il salvataggio prevede la regolazione della dimensione della finestra dell'immagine, ad esempio 400x400 pixel, e poi la creazione di un'immagine di risoluzione normale per il web. Zoomify, direttamente da Photoshop, salva una pagina HTML contenente una finestra della dimensione preimpostata e una serie di comandi per ingrandire, rimpicciolire e spostare l'immagine. Una volta pubblicata online, la pagina HTML permette di vedere la fotografia intera nella finestra di partenza. Usando i comandi è possibile ingrandire i dettagli oppure navigare nell'immagine fino a raggiungere il rapporto 1 a 1, vale a dire un ingrandimento del 100%. L'effetto è quello di un'immagine che pur avendo un'altissima risoluzione può essere navigata. A ogni clic o a ogni spostamento vengono infatti richiamati solo i pochi pixel della dimensione della finestra e non tutta l'immagine ad alta risoluzione che richiederebbe diversi minuti di caricamento. Provate anche voi! Il risultato è davvero interessante e apre potenzialità tecniche e creative ancora inesplorate.